Ciao a tutti, sono Anna di Ferrovani. Oggi vi porto in Friuli Venezia Giulia, tra i colli orientali, a Savorniano del Torre, dove si trova un giovane agricoltore biologico, Marco Sara. Marco ha 8 ettari di proprietà, che è eredita dal padre, dove coltiva vitine autoctone del territorio friulano. Tra le colline i suoi filari si estendono proprio protetti dalle Alpi Giulie, quindi un clima abbastanza temperato. La caratteristica principale di questo territorio è il terreno, viene chiamato Flish, è una ponca, quindi detto in friulano, è un insieme di marna e arenaria, dotati di una buona sostanza minerale. Marco sicuramente riesce ad esprimere egregiamente questo territorio con questo vino, l'erba alta, prodotto con uve friulano. Il friulano è comunemente l'ex tocai, che veniva chiamato così una volta, quindi un vitigno veramente che fa la storia del territorio del Friuli. Il prodotto con viti, che hanno oltre 50 anni, riescono a regalare a questo vino note molto interessanti, molto ricche, sfumature fruttate con accendi di susina, mela, note floreali con i fiori di mandorlo e anche una nota fumé, minerale. Quindi un vino di struttura, un vino pieno, però nello stesso tempo molto fine. Lo possiamo utilizzare per abbinarlo con dei piatti a base di pesce, per esempio antipasti saporiti, primi piatti in genere, o comunque anche pesce al forno come branzino e dorata, ma perché no, anche con delle carni bianche delicate. È un vino molto interessante, quindi vi aspettiamo qui nei nostri store per conoscere questo vino e tutti gli altri prodotti da questo giovane vignaiolo. Grazie e alla prossima!